Sei serate all'angolo della poesia, sei poeti e il tema della follia che ne ha contraddistinto il percorso. La rassegna curata da Peppino Saponara, giunta all'undicesima edizione, torna dal 22 al 27 luglio scegliendo il giardino della Biblioteca San Giovanni e omaggiando il centenario della nascita di Franco Basaglia per analizzare sei poeti distanti fra loro ma comunati dal poter essere ritenuti erbacce. Le erbacce sono quelle cose che noi prendiamo, le usiamo, le gettiamo, anche le estirpiamo quando le vediamo. Siamo terrorizzati, sono per noi come un cataclisma, sono una cosa apocalittica, le prendiamo e le buttiamo via senza immaginare quante proprietà mediche e terapeutiche, quante proprietà hanno. Questo accade negli uomini. Noi abbiamo gettato, noi prendiamo le persone e come si scostano da quelle che sono le regole che noi uomini abbiamo dettato, ecco che subito le tendiamo ad escludere, ad allontanare. Questo vale nelle varie forme, manicomiali, carcerari, gettizzazione, censura, tutto ciò che in qualche modo esula dalle regole che noi abbiamo dettato. Ma sono regole che molto spesso sono diverse sia in chiave di spazio, spaziale sia in chiave temporale. Si comincia il 22 luglio in un appuntamento dedicato a Margot Raddok per poi proseguire di sera in sera con Oreste Nannetti, Silvia Pat, Teresa Wilmsmont, Leopoldo Panero e Maria Fucsa. E in questo quindi abbiamo scelto sei grandissimi poeti, tutti che hanno fatto un'esperienza di disagio psichico e li abbiamo in qualche modo usati, insomma presi a esempio paradigma per la rassigna di quest'anno. Questa volta è l'angolo della Biblioteca San Giovanni che per sei giorni, dal lunedì a sabato prossimo, ospiterà a partire da cinque grandi poeti e poetesse e tanti richiami culturali con la direzione di Peppino Saponara, quindi il format che ormai conosciamo ma con un programma veramente in linea con quello che è lo spirito della capitale italiana della cultura e anche della riappropriazione di questi spazi, in questo caso che è il giardino della Biblioteca San Giovanni, per un progetto culturale veramente affascinante.